Poche ma sentite parole a commento di ieri e anche dei giornali di oggi. Primo, invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia, cioè dal mio partito, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito, con meno non succede. Punto secondo, non esiste, non è mai esistito né può esistere un vincolo di disciplina sui temi costituzionali. Questo da sempre e per qualsiasi partito. Terzo, chi guarda le cose in buona fede non può non vedere che l'incrocio fra le due riforme, Costituzione e Italicum, comporta una modifica profonda della forma di governo. Una modifica che io ritengo negativa e con quel che succede nel mondo anche pericolosa. Infine, io ricavo dalla giornata di ieri che si vuole tirare diritto, visto che una commissione non la si nega a nessuno. Se si tira diritto, non si potrà tirare diritto col mio sì, quindi si tirerà diritto col mio no. Dopodiché è dovere di tutti quelli che hanno responsabilità dire al mondo che noi non siamo a un appuntamento col giudizio di Dio, né con l'Apocalisse, stiamo discutendo in Italia di una cosa italo e italiana e il giorno dopo, sul piano sociale, economico e anche della permanenza del governo, noi saremo come il giorno prima.